Perchè me parli in dialetta? Di Franca Zeglioli da Cremona. E in me scolare fino al bacino, mi ha domandato Perchè maestra, ti piace così tanto parlare in dialetta? Ecco, perchè se me parli in dialetta, il cuore si perde mai più di lui in delle ingarboi più spessi di pensieri, e se me scrivi in dialetta la man, senza avurire, la varra a bagnare in del sac dei ricordi. Perchè? Perchè il dialetta le senti la parlata dei decadestati, della gente che in città la sedivano a mano in delle caderinghiera, di che le canzoni puorete ma piene di tanta fadiga che chiantava la vita dell'uomo. Le l'ha parlata, scetta e sincera, di quel che mi teni dei denti guarnati e mi senti in bel suor, perchè puoi andare per vicoli e strade di quel tempo dell'endate, dove incontriamo anche achei che adesso mi ha più. Perchè il dialetta le l'avus del tempo della mamma che veniva sul corso, del papà che mi cantava, pim, pim, se me piene di intorcenti, in tanto che me sia la mandava il calcetto e la me insegnava le vece orazioni in dialetto. Le l'avus della gente del paese che mi ha vist maestra Nuela, del strassere, la giacera, l'urturan, l'uarol, la pecera, del verticale che a Lager suonava, del ricciama ai cavai del brumista, del balada e supei, delle bici sulle strade di Buzet e di Gera. Le l'avus della mettera. E al no le l'avus che mi senti dei denti, del carol in del cifon della nonna, della tromba dell'acqua vicino al furon della brigadera, le l'udur dei madoni della casa, le strade di luce con la cera, e il bel dei nadai appresso anche a me e delle Pasque e sui arsene del piacentino. Le vergote che mi dà il magone adesso che vencerà, perché le l'avus del tempo quando era. Ma il dialetto, le anche che la parlava, che mi vencerà dal cor quanta la mettera vorrebbe dire tutto il mio amore. Grazie a tutti.